San Sisto una pareggite acuta ed anche astuta per quello che è il modo di disputare le contese da parte della squadra perugina. Sono nuovi i risultati utili consecutivi per la squadra del San Sisto che con ben 6 pareggi e 3 vittorie ha quasi una decina di gare consecutive senza subire sconfitte al passivo. In totale sono 12, pensate ai pareggi stagionali sulle 21 gare disputate per un totale del 57% in cui 7 volte, ben 7 volte su 21, un terzo delle gare, il risultato finale è stato ad occhiali. 0-0, direttore sportivo Monni è avvisato. Spoleto, crisi nera nel 2019, soltanto 3 punti in 5 gare per la compagine del patronne Damaschi e del presidente Riccardo Ciambottini, nessuna vittoria. La sconfitta interna maturata al cospetto della Ponte Vecchio, successivamente all'abbandono con il proprio fulcro del gioco offensivo, ovvero Vito Falconieri, suona come un grande campanello di allarme per il proseguo di questa stagione. Lama con lo 0-0 di Foligno continua l'imbattibilità al di fuori del campo amico. Insieme alla Nestor, promozione girone B, al Castello del campionato di prima categoria girone A e alla Vis Foligno, capolista del torneo di prima categoria girone C, sono le uniche quattro squadre a non aver mai perso in trasferta dalla prima categoria al massimo torneo di eccellenza. Mugnano e la vittoria smarrita. E addirittura dallo scorso 28 ottobre 2018, la gara fu tra Mugnano e Corciano che finì 2-0, che la formazione, ora guidata da Stefano Perugini, non consegue il bottino pieno. Da lì 10 sconfitte, soli 3 pareggi, l'ultimo punticino maturato domenica scorsa nello scontro diretto di Pietralunga, che sta inesorabilmente facendo scivolare in piena zona retrocessione la squadra perugina. Nestor, sono ora 587 i minuti di imbattibilità e caccia all'ennesimo record stagionale. I 709 minuti del Montone non sono una chimera per la Montecucco Band, che vuole scrivere un altro capitolo glorioso della storia targata stagione 2018-2019. Mantignana finisce la striscia da record. Dopo 16 risultati utili di fila, 11 vittorie e 5 pareggi, la corazzata perugina scivola in quella di Sant'Arcangelo e vedere ridurre il proprio distacco dalla seconda della classe, l'Atletic Bastia, a sole due lunghezze. Virtus Foligno, nel torneo di prima categoria Girone C, la porta di Lorenzo Stoppini e compagni è la prima ad uscire inviolata da Caccia. La formazione del tecnico folignate Giampiero Protasi è di Capitan Benzi e è la prima a non aver subito reti al passivo sull'ostico campo della città di Santa Rita. Un vero ennesimo miracolo stagionale per la squadra folignate. Infine, due attaccanti, dei quali dare delle statistiche notevoli. Lorenzo Tarpani, bomber di lungo corso, classe 1975, che batte l'ennesimo record con la doppietta domenicale rifilata al Del Nera, salgono a 10 centri stagionali su 14 gare disputate e sono più di 300 le realizzazioni con la maglia Tuderte. Un vero Highlander indistruttibile. Chapeau a Lorenzo Tarpani. Infine, Andrea Nuti, record, due reti per l'attaccante del Gualdo Casacastalda in un minuto e 20 secondi tra il quattordicesimo e il quindicesimo della prima frazione di gioco. Tre reti invece per il Gualdo Casacastalda in quattro minuti per un Gualdo in versione flash nella gara interna al cospetto del Giove. La particolare statistica, infine, di giornata è quella che riguarda l'esonero degli allenatori. Tra eccellenza e promozioni sono stati finora 18 i cambi in panchina sulle 48 squadre totali, ben nove dei quali, pensate, attinenti al torneo di eccellenza in cui sei riguardano le ultime sei della classe. Il 56% delle società della serie A Umbra ha deciso di optare per avere almeno un esonero. panchine ed allenatori volanti nella nostra regione, di certo non è solo un eufemismo.